Traffico costante è in aumento nelle ore d'ingresso e di uscita da scuola degli studenti. Fermate degli autobus dislocati in più punti, alcuni dei quali non ottimali dal punto di vista della sicurezza, e un attraversamento pedonale per raggiungere le classi dove i mezzi sfrecciano a gran velocità. Non sono una novità le diverse criticità segnalate nell'area del campus quando si parla di viabilità. A tal proposito, il gruppo consigliare Forza Pesaro un gran bel po' in seguito ai tavoli avviati con Adrebus, quartieri interessati, assessori di riferimento e tecnici del comune, ha elaborato una mozione prossima alla discussione in consiglio comunale contenente diversi progetti per apportare delle modifiche alla circolazione dell'area. Un nuovo piccolo tratto stradale, la modifica dell'incrocio tra via Solferino e via Guido d'Arezzo e la realizzazione di un nuovo parcheggio. Misure che porterebbero agli studenti nuove postazioni in cui poter salire e scendere dai bus in spazi più sicuri, e che allo stesso tempo hanno lo scopo di alleggerire il traffico in tratti stradali dove si condensa il transito dei mezzi. Ultimamente il gruppo consigliare Forza Pesaro un gran bel po' insieme a tutta la maggioranza e alla giunta in particolare, grazie all'assessore Emilia Dell'Adora, a Edi Morotti e Denzo Belloni, abbiamo cercato di pensare a una soluzione. La principale criticità è legata al fatto che si arriva all'interno del campus da poche direzioni, quindi chiaramente il traffico si crea in maniera molto forte solamente in alcuni punti. Quindi l'idea è in linea con il piano urbano della mobilità sostenibile di cercare di far arrivare i veicoli, gli autobus e le auto da punti diversi all'interno del campus. Tre, nello specifico i punti presentati per queste modifiche della circolazione, quali sono? Sì, sono tre punti che è importante specificare che sono punti che non sono collegati uno con l'altro, quindi possono essere fatti a step in momenti diversi. Il primo è quello di creare un piccolo tratto stradale tra il parcheggio che si trova alle spalle del liceo scientifico e del Benelli, che metterebbe direttamente sulla rotatoria tra via Solferino e via Goito. Questo permetterebbe agli autobus in arrivo da Urbino di non dover arrivare fino a via Goito per tornare indietro. L'altra è invece quella di migliorare l'intersezione tra via Solferino e via Guido d'Arezzo per permettere anche qui di evitare che i pullman tornino sempre nello stesso punto. E l'ultimo è quello di creare un parcheggio che può diventare poi in futuro anche scambiatore dietro l'attuale Mamiani, ex geometra, in modo che gli autobus in arrivo da Urbino si fermerebbero su quel parcheggio e non dovrebbero arrivare ancora fino a via Solferino. E sempre per quanto riguarda il discorso viabilità al campus scolastico, sono diverse le voci degli studenti che hanno segnalato la pericologità dell'attraversamento pedonale posto in via Solferino. Diversi infatti sono i ragazzi che negli orari di ingresso e di uscita dagli istituti si trovano a percorrere questo attraversamento pedonale su una strada molto trafficata e a quattro corsie. Questa è un'altra criticità che i ragazzi che abbiamo incontrato in questi giorni proprio negli orari di ingresso nelle scuole, che abbiamo con loro verificato è la pericolosità di via Solferino, perché le auto arrivano in maniera molto massiccia e anche con una velocità molto elevata. Quindi quel miglioramento di intersezione permetterebbe ai ragazzi di attraversare più in sicurezza ovviamente. È importante evidenziare che questa mozione nasce da un grandissimo lavoro fatto con i quartieri 2 e 10 che sono quelli interessati dal campus, da un gran lavoro con la Giunta, con i cittadini e con Adribus che chiaramente aveva necessità di capire bene quale potrebbe essere il tratto per far girare bene gli autobus.